Regalo fatto! Regalo fatto! Regalo fatto! Non mi farebbe molto piaceri... Non so cosa starei facendo, ma sicuramente qualcosa di brillante! e nel frattempo mi sei venuta in mezzo la staglia tanti tanti auguri tutti erudissi la taglia all'assare meglio la morte a questo volo io sono i e droghi taglia per la staglia rigida crepa bastardo mettiamo il frigorifero e vediamo cosa c'è dobbiamo andare a fare la spesa eh io ti avviso per poter parlare per 3 minuti limitato ma non hai che lunga la rabbina di trovare e fare come sia il canto e dopo eh dimmelo no 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 tanti pezzini e quindi sì ti ringrazio e quindi sì ti ringrazio bucciare con le cura le patate tagliarle in quattro e aggiungerle insieme alle regaglie di un polo zampe, ali, collo, frittate finalmente buonetto ci posso aggiungere le olime ditte per insaporire il tutto più buonetto Grazie a tutti.